Non sempre Babbo Natale assomiglia come ce lo raccontavano da piccoli. Per esempio, non sempre ha una lunga barba bianca e al cammino a volte preferisce la porta di casa. Non fa il giro del mondo in una notte, ma il giro della città in un giorno quello sì. Non sempre Babbo Natale ama vestirsi di rosso e a volte fa di tutto per non avere la pancia. No, non gira sempre con le renne e anche se hai fatto il cattivo ha sempre qualcosa di buono da darti. Non sempre Babbo Natale è un babbo, a volte è una mamma, a volte un'amica, a volte è una sorella più grande. A Babbo Natale non ci assomiglia molto, ma quello che conta davvero è che ogni anno rende il Natale magico per tantissime persone. a Ara Farbos Sтяveria inجenza a bellissime persone. A Abbo Natale